E' la luce, luce come memoria, presente ed innovazione, il tema della mostra dell'artigianato artistico abruzzese che si terrà a Guardia Grele fino al 25 agosto. Tante le novità di quest'anno in un percorso dove l'artigianato artistico più tradizionale si incrocia, con quello più innovativo, dai capolavori di Costantino Barbella, scultore abruzzese di fine 800, a creazioni originali di Andrea Cingoli, insieme alle opere di sugo dove la tecnologia diventa sostenibile, i vetri che catturano la luce di Berengo, le installazioni trame di luce di Daniel Caramanico e il suo studio che enneggiano la fratellanza fra popoli. Non manca un omaggio al Giro d'Italia Woman con l'esposizione del trofeo Luce Infinita e della medaglia dedicata alle donne. Gianfranco Marsiviglio, presidente dell'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese, si è alzato il sipario sulla 54esima edizione della mostra, veramente ricca di novità. Quest'anno il tema è la luce, è molto importante questo tema. Luce come memoria, ma al tempo stesso come presente e come futuro. Io ringrazio gli artigiani abruzzesi, sono stati tanti anche quest'anno, hanno capito bene qual è l'importanza della mostra e qual è anche l'importanza dei temi che proponiamo. Infatti le opere che sono state esposte sono veramente molto belle e quindi un invito a tanti a venire a Guardia Grele e a vedere la mostra dell'artigianato che nasce a Guardia Grele nel 1971, ma in 54 anni di storia si è affermata come un evento importante per la regione Abruzzo. Marsibilio nella cerimonia di inaugurazione ha ricordato a tutti che l'artigianato ha bisogno di attenzione e sostegno, di mantenere la luce sempre accesa su questo mondo fatto di cultura, saperi, maestria. Presenti oltre al sindaco Donatello Di Prinzio, il sottosegretario alla presidenza Daniele Damario, l'assessore regionale Tiziana Magnaca. Io penso che l'artigianato possa dare luce alla nostra economia, possa tornare a dare luce alla nostra economia perché nell'artigianato c'è tutto un mondo che qualsiasi altro paese del mondo non è in grado di esprimere come può farlo l'Italia, non è un caso che stiamo credendo tantissimo nel marchio Made in Italy e di cui l'artigianato è un pezzo fondamentale. E al tempo stesso questo titolo a luce ci invita a una responsabilità maggiore, intendo noi istituzioni, perché ci invita a dare più luce con gli strumenti che le istituzioni possano dare ad un mondo così importante per la nostra economia, per il nostro patrimonio culturale, per il nostro patrimonio identitario. Ad accogliere i primi visitatori dopo il taglio del nastro una performance in collaborazione con Go Guardia Grele Opera, la Sinfonia dei Mestieri, con musici originali di Maurizio Colasanti e testi di Liliana Rullo. Al quintetto d'archi si sono uniti i rumori tipici degli artigiani, quello del ferro battuto, della pietra scolpita, del tombolo, del legno, con un risultato davvero unico.